La Pavoncelli bis è la nuova galleria di Valico che dovrebbe sostituire quella danneggiata, secondo gli esperti, dal sisma del 1980 e portare le acque delle sorgenti di Caposele Cassano in Puglia per servire un'utenza di oltre 1.300.000 abitanti. Tante le discussioni su questa opera e molti anche i ricorsi alla magistratura ordinari e non, anche se i lavori sono puntualmente ripartiti. Siamo entrati accompagnati dal commissario straordinario per la Pavoncelli bis Roberto Sabatelli nel Pozzo A in località Sauri a Caposele, una delle strutture più importanti della galleria per provare a capire a che punto sono i lavori e quando termineranno. Nelle prossime ore si completterà questo intervento con la riapertura verso le ore 20 del flusso idrico nella galleria. Questa interruzione è stata necessaria per far sì che l'acqua possa essere indirizzata nel bypass perimetrale del pozzo, il che consentirà nel prossimo mese di realizzare il nuovo pezzo di interconnessione fra le due gallerie, per poi essere ripristinata e poter gestire il flusso o verso la vecchia Pavoncelli o verso la nuova Pavoncelli bis. Questo per quanto riguarda il Pozzo A. La galleria sta procedendo secondo le previsioni a questo punto, sono stati superati una serie di intoppi tecnici e siamo arrivati praticamente al 63-64% dei lavori, abbiamo superato il quinto chilometro di galleria, dobbiamo ancora perforare per 3 chilometri, dopodiché sfonderemo in corrispondenza del tratto già realizzato della discenderia di Vallone dei Laghi e dovremo poi passare a realizzare le opere previste nel Vallone delle Brecce che potranno essere realizzate soltanto dopo lo smontaggio della TBM, mentre la centrale ideolettica è già praticamente completa con tutte le attrezzature installate e quindi pronta perché, previo per consenso da parte dell'Ener si possa iniziare la produzione di energia quando l'acquedotto evidentemente metterà a disposizione una risorsa idrica proveniente da Cassano. Sabatelli ha inoltre spiegato e garantito che con la nuova galleria la derivazione di acqua non sarà superiore a quella che è in atto oggi. Apporterà l'acqua che attualmente viene trasferita in Puglia attraverso però un vettore che garantisce ogni rischio che possa venire fuori da un'ipotizzabile nuova scossa sismica in quanto la nuova galleria ovviamente è progettata e dimensionata per far fronte alle sollecitazioni che un eventuale sisma può indurre.